La vita può cambiare in un istante, senza preavviso e senza pietà. Un giorno sei pieno di energia e di vita, fai progetti per il futuro, ridi con gli amici e sogni ad occhi aperti. Il giorno dopo ti trovi faccia a faccia con la tua mortalità, seduto in una sala d'attesa di un ospedale, ricevendo notizie che cambiano tutto. Questa è stata la realtà per l'amata attrice italiana Eleonora Giorgi, una figura iconica del cinema. Durante un'apparizione al programma televisivo Verissimo, la Giorgi ha coraggiosamente rivelato la sua battaglia contro il cancro al pancreas, una malattia devastante. Diagnosticata solo dieci mesi prima, ha condiviso la sua storia con una grazia e un'onestà che hanno profondamente colpito i telespettatori, mostrando una vulnerabilità rara. La trasparenza della Giorgi sulla sua diagnosi è stata una testimonianza della sua forza e del suo coraggio. Non si è tirata indietro di fronte alla verità, né ha permesso alla paura di consumarla, dimostrando una resilienza straordinaria. Al contrario, ha scelto di affrontare la sfida con la stessa determinazione e lo stesso spirito che hanno caratterizzato la sua illustre carriera, sia sullo schermo che nella vita reale. La sua onestà è stata un faro di speranza per gli altri che combattono contro diagnosi simili, ricordando loro che non sono soli e che c'è sempre una luce alla fine del tunnel. Allo shock iniziale della diagnosi è seguito un vortice di visite mediche e trattamenti. Ogni appuntamento portava nuove informazioni, nuove sfide e nuove speranze. La chemioterapia è diventata parte della vita della Giorgi, un regime estenuante che ha messo a dura prova i suoi limiti fisici ed emotivi. Ogni sessione era un test di resistenza, ma anche un passo verso la guarigione. Eppure, anche mentre combatteva gli effetti collaterali, il suo spirito è rimasto intatto. La sua determinazione era evidente in ogni sguardo, in ogni gesto. Affrontava ogni giorno con una forza silenziosa, attingendo alle sue riserve interiori di resilienza. La meditazione e la scrittura erano i suoi rifugi, momenti di pace in un mare di incertezze. Anche di fronte alla notizia che il cancro si era diffuso, la Giorgi si è rifiutata di arrendersi alla disperazione. Ogni nuova sfida era un'opportunità per dimostrare la sua forza. Sapeva che il cancro al pancreas era un nemico formidabile, noto per la sua natura aggressiva, ma la sua volontà di combattere non vacillava mai. Ma sapeva anche che dentro di lei risiedeva una fonte di forza, una determinazione a lottare per ogni prezioso momento. Il supporto della famiglia e degli amici era il suo pilastro, un faro di speranza nei momenti più bui. Nonostante le difficoltà, la Giorgi è rimasta ottimista, mantenendo sempre un sorriso sul volto e uno sguardo pieno di speranza verso il futuro. Ha riposto la sua fiducia nei progressi della scienza medica, esplorando terapie e trattamenti innovativi sia in Italia che all'estero, cercando sempre nuove possibilità. Uno di questi fari di speranza è arrivato sotto forma di un trattamento rivoluzionario disponibile negli Stati Uniti, che ha aperto nuove porte e prospettive. Questo barlume di possibilità ha alimentato il suo spirito, ricordandole che nella lotta contro il cancro vengono costantemente fatte nuove scoperte e che ogni giorno porta con sé nuove speranze. Si è aggrappata alla convinzione che una cura fosse a portata di mano, non solo per lei, ma per innumerevoli altre persone che affrontano battaglie simili, trovando forza nel supporto reciproco. La sua incrollabile speranza è stata un potente monito che anche nei momenti più bui, la luce della possibilità non può mai essere spenta e che la resilienza umana è una forza straordinaria. Di fronte alla sua diagnosi, la Giorgi ha vissuto un profondo cambiamento di prospettiva. Ha imparato ad apprezzare la preziosità della vita, la bellezza di ogni momento che passa. Ha spesso parlato dell'ultimo anno come di un periodo dolce amaro, segnato da immense sfide e da gioie inaspettate. L'amore della sua famiglia e dei suoi amici è diventato la sua ancora di salvezza, una fonte di incrollabile sostegno e conforto. La loro presenza le ha ricordato la bellezza che la circondava, le innumerevoli ragioni per continuare a lottare. Ha trovato conforto nelle loro risate, ha tratto forza dal loro amore incrollabile e ha scoperto una rinnovata capacità di apprezzare i semplici doni della vita. Tra coloro che hanno portato un'immensa gioia nella vita della Giorgi c'è stato suo nipote, Gabriele. Il loro legame, già incredibilmente forte, si è approfondito durante la malattia. Gabriele è diventato una fonte di pura luce e di risate, un monito del futuro per cui stava lottando. È la ragione per cui trovo la forza di sorridere ogni giorno, ha detto la Giorgi del suo amato nipote. Nella sua esuberanza giovanile ha trovato un rinnovato senso della vita. Ogni momento trascorso con lui era un dono, un monito che l'amore ha il potere di guarire e ispirare. Nonostante le sfide che ha dovuto affrontare, la Giorgi non ha mai perso di vista la gratitudine. Ha espresso la sua riconoscenza per le dimostrazioni di affetto e di sostegno ricevute da familiari, amici e fan. È stata onorata dagli auguri e dalle preghiere che le sono giunti, a testimonianza dell'impatto che ha avuto sulla vita di tante persone. La grazia della Giorgi di fronte alle avversità è stata di ispirazione per tutti coloro che hanno conosciuto la sua storia. Possedeva una dignità silenziosa, una forza che emanava dall'interno. Ha insegnato agli altri che anche nel mezzo della sofferenza è possibile trovare momenti di gioia, provare gratitudine per il dono della vita. La notizia della battaglia della Giorgi contro il cancro ha scatenato un'ondata di sostegno da tutto il mondo. Fan, colleghi attori e anche chi non l'aveva mai incontrata di persona si sono fatti vivi per offrirle parole di incoraggiamento, preghiere e messaggi di speranza. I social media sono diventati una piattaforma per condividere storie di resilienza e di forza. persone di ogni estrazione sociale hanno condiviso le proprie esperienze con il cancro, offrendo parole di conforto e di solidarietà. L'onestà e la vulnerabilità della Giorgi avevano creato uno spazio di dialogo aperto, ricordando a tutti che non erano soli nelle loro lotte. Nel corso del suo percorso, la Giorgi ha scoperto una fonte di forza che non sapeva di possedere. Ha imparato ad accettare la vulnerabilità, ad appoggiarsi agli altri per avere sostegno e a trovare momenti di gioia anche nei momenti più bui. Ha scoperto che la vera forza non sta nel negare il dolore, ma nell'affrontarlo con coraggio e grazia. La storia della Giorgi è una testimonianza della resilienza dello spirito umano. È un monito che anche di fronte a sfide inimmaginabili. Abbiamo il potere di scegliere la speranza, di trovare un senso e uno scopo e di vivere ogni giorno al massimo. Attraverso le sue parole e le sue azioni, la Giorgi è diventata un faro di speranza per gli altri che combattono contro il cancro. Ha dimostrato che è possibile vivere con grazia e dignità anche di fronte a una malattia che limita la vita. Ha ispirato gli altri ad abbracciare la vita, ad amare i propri cari e a non perdere mai la speranza. Il suo messaggio è risuonato tra le persone di ogni estrazione sociale, ricordando loro che non erano sole nelle loro lotte. Ha dato voce a chi non ne aveva, offrendo conforto e ispirazione a chi combatte contro il cancro e ai propri cari. La storia della Giorgi ha anche evidenziato l'importanza della continua ricerca nella lotta contro il cancro. È diventata una sostenitrice dell'aumento dei finanziamenti e della consapevolezza, esortando gli altri a sostenere lo sviluppo di nuovi trattamenti e terapie. Aveva capito che i progressi della medicina offrivano speranza non solo a lei, ma anche a lei.